bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi aggiornamento settimanale prima del dlc ragazzi del 13 giugno come ben vedete come vico del podio ragazzi al casino abbiamo il furgoncino di breaking dead quello di dax e ragazzi e se volete fare il glitch della ruota ve lo lascio in descrizione per vincerlo e vi consiglio anche raga di prendere sempre le fisce una volta che entrate qua dentro a questo punto possiamo passare allo showroom raga dove troviamo la shaghen gt ragazzi e a fianco abbiamo invece la drafter a questo punto andiamo da simeon dove troviamo la dux ragazzi poi abbiamo la toros la blista cangio abbiamo ragazzi il camacho che è questo gipone arancione adesso io passerei a ls autoraduno dove raga troviamo la gb 2000 questo veicolo modificato fatto da rally è bellissimo poi abbiamo la 5000 e poi abbiamo la remerus invece come veicolo ragazzi esclusivo di au per next gen abbiamo ls 95 questa macchina va una bomba è difficile da controllare in curva ma veramente forte come veicolo del podio e per vincerlo sempre arrivare tra i primi tre o quattro nella categoria clandestine raga abbiamo la dominator gtt a questo punto possiamo iniziare con le attività e la roba doppia e tripla quindi ragazzi andiamo su gare e andiamo a vedere che sulle gare stante abbiamo le multi veicolo con gli rp tripli finalmente devo dire che era era veramente tanto che non c'erano un po di gare del genere con gli rp tripli e quindi magari possiamo passare un po di tempo a cazzeggiare questa settimana raga sono rimasti i sconti sugli hangar e su alcuni velivoli quindi se volete andarli a prendere approfittatene raga perché poi dal 13 ci sarà qualcosa di nuovo a questo punto vi faccio vedere dove stanno le gare a tempo che questa è per tutte le piattaforme questa è l'esclusiva next gen raga e questa è quella per tutte le piattaforme con la rc bandito riusciremo a fare circa 400 mila se le facciamo tutte quindi io lo farei e vi voglio anche aggiungere ragazzi che ci saranno delle gare a tempo nuove dall'uscita del dlc quindi lasciate un like lasciate un commento supportate savix supportate il canale ragazzi iscrivetevi abbonatevi supportatemi e alla prossima ciao